Siamo qui, sono le 16.05, davanti a Bonaria. Chiediamo un po' cosa deve succedere alle 16.30. Succederà una cosa bellissima. Tutte queste persone hanno posizionato le loro sveglie alle 16.30, affinché anche in Italia si possa continuare a chiedere, a ribadire, come stiamo facendo in tutti questi anni, che è il momento di dire sì, che è il momento di dire Italia svegliati. Sì, Cagliari in questo caso si unisce alle oltre 100 piazze che in tutta Italia oggi faranno questa manifestazione. Non siamo da soli, l'Italia in questo caso non è lasciata sola, saranno 6 le piazze in tutta Europa che manifestereanno per l'Italia davanti al Consolato, più New York. Per cui è un'esperienza bellissima, è una situazione meravigliosa. Abbiamo anche Berlino, Londra, Madrid, Barcellona, abbiamo tante, Copenhagen, Amsterdam. Sentiremo suonare in tutte le piazze del mondo alle 16.30, tutte le sveglie possibili. Tutte le sveglie possibili, immaginabili, tutte. Perché ci dobbiamo svegliare. Grazie. È arrivato il momento. Grazie, grazie.